Devi guardare un attimo in che rapporto sei con lei e perché è successo questo litigio. Ciao, quelli che stai guardando sono estratti di un percorso di consulenza che sto tenendo all'interno della mia Masterclass con un uomo esattamente come te, che ha dei problemi che lo toccano nel profondo e che deve assolutamente risolvere. Guarda la qualità di informazioni che rilascio e come seguo il suo processo passo passo fino a portarlo alla soluzione, a quello che deve fare ora per risolvere la sua situazione sentimentale. Vuoi partecipare anche tu al mio percorso Masterclass? Bene, clicca il link sotto in descrizione e parla con il mio coach che ti saprà dare indicazioni per entrare. Sei ancora in tempo, costa veramente pochissimo, è per tutte le tasche, quindi affrettati perché è ora di risolvere il tuo problema alla radice e darti la vita sentimentale che desideri. Ora, cogiti il video. Io di base, quando una ragazza torna, tra virgolette, io dico strisciando e mi chiede di far pace, io non è che le dico, ok, va bene, è come se non la fosse, la perdono, ma cerco sempre di farle capire un attimo che sono io il boss e quindi dirle, ok, va bene, forse, ma la condizione adesso è questa, questa, quest'altra. Oppure, sì, ti potrei perdonare non subito, ma vediamo come ti comporterai in futuro. Cioè, me la tiracchio un pochettino, non tiro troppo la corda altrimenti si rompe, ma nemmeno le dico, ok, come se nulla fosse stato, perché quello lo fanno gli amici. Uno che invece magari ha qualche ambizione su di lei deve un attimo riprendersi il potere in questo modo qua, cioè far vedere che non è come tutti che accettano e poi tutto ok, perché altrimenti se lei ha fatto qualcosa per la quale appunto si è scusata, rischia di rifarlo. Se invece tu te la tiracchi un po' e gli dici, per ora il mio giudizio è so speso, vediamo d'ora in avanti come ti comporterai, poi vedrò se perdonarti o no, una roba così già più di qualcuno che comunque sa il fatto suo. Quindi devi decidere te, innanzitutto devo capire chi è questa donna per te, cosa è successo, perché avete litigato, quanto ti interessa, molte più cose, se vuoi dirmene. Io so quanto valgo, quindi faccio anche in fretta mandarti a fare in culo se non mi tratti con rispetto. E devi sapere tu per primo però prendertelo con rispetto, come? Con risposte corrette, con l'amore per te stesso e col fatto che lei non si deve permettere a trattarti in un certo modo, perché tu glielo fai notare, cioè tu la pizzichi, la stuzzichi, le dici quando c'è qualcosa che non ti va, che questa cosa non ti va. Non lasci andare tutto così perché tanto mi interessa e quindi mi va bene tutto. No, a te non va bene tutto. Quello è il segreto per piacerle, farle vedere che hai carattere e che sei uno strong. Grazie. 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 Grazie.